Ciao a tutti, benvenuti a questo bellissimo palazzo storico in centro di Venezia, insieme alla Derby Ness Art Gallery per inaugurare una bellissima, prestigiosa collettiva d'arte. Abbiamo 60 capolavori con vari artisti maestri di talento, ospiti di onore Alexander Karnevski di fama mondiale, abbiamo omaggio Gian Paolo Minotto, artista e pittore veneziano maestro storico, omaggiamo oggi Remigio Butera e accanto a me, come state vedendo ora, sono dei talenti dei maestri che hanno dedicato all'arte una vita intera, abbiamo anche artisti emergenti di vari stili. Insieme tutta questa mostra porta una parte dell'anima di ciascuno di loro, ciascuna opera porta in sé sentimenti e emozioni vari e questa che privilegia oggi, che oggi sono qui artisti in mostra, su cui si può investire, da qui si possono prendere varie emozioni vive e sono veramente tutti da scoprire attraverso i loro capolavori. Siamo orgogliosi di presentare questa mostra perché l'opera di ciascuno di loro porta quella virtù, quel valore artistico che si può promuovere l'arte qui da Venezia, a livello veneziano ma anche a portare al mondo per l'internazionale. Da qui si parte una mostra collettiva che è soltanto un punto di partenza per l'estero. Passo parola ai critici, al Comitato Scientifico Tecnico della Danvenistar Gallery e ringrazio tutti i presenti e ringrazio per il contributo creativo e artistico tutti i partecipanti e un merito dovuto soltanto al loro talento. A qui facciamo un meritevole applauso. Senza di voi non sarebbe l'arte e quindi un grazie a voi in particolare. Critica d'arte Barbara Porto. Grazie mille e benvenuti. Le opere d'arte racchiudono emozioni, idee, visioni e sogni. Ecco perché questa collettiva è stata intitolata Il sogno dell'arte continua. Di Van Gogh la famosissima, popolarissima frase Io dipingo i miei sogni. È come non sentirci immersi in una dimensione onirica visitando questa collettiva in un contesto così meraviglioso come la scuola grande di Sant'Eodoro. Nei sogni tutto è possibile, non ci sono limiti. Ecco perché questo evento non è stato legato a alcun tema. Gli artisti erano liberi appunto di esprimersi come meglio credevano, senza catene, senza vincoli. Come il sogno, così qui anche l'espressione artistica è considerata, la possiamo intendere, come un mezzo per rielaborare i contenuti della coscienza. Per produrre che cosa? Per produrre delle raffigurazioni ricche di simboli e di riferimenti al proprio vissuto, alle proprie esperienze personali. Ecco che allora qui troverete tra i vari soggetti chi ha voluto raffigurare e dipingere la propria piccola figlia, chi uno scorcio caratteristico di un rione popolare, chi invece ha voluto fissare sulla carta i colori indimenticabili di un suo viaggio alle Maldive. Può ancora esprimere la propria passione per la vela. Ancora, faccio appunto alcuni esempi, ma ne troverete tantissimi di soggetti con tecniche e materiali differenti, chi ha voluto esprimere e ricordare un amore che ha segnato l'artista. Due le modalità di narrazione, una classica, quella dell'esposizione a parete e a cavalletto e l'altra invece più in linea con il carattere tecnologico della nostra società. La DEM Benissar Gallery è da un po' che punta su questa formula, quindi sul binomio arte visiva e arte proposta in videoesposizione, perché ci dicono che questa è la formula che avrà il destino di crescere sempre più nei prossimi anni. A proposito, perché appunto la DEM come sempre punta molto sulla comunicazione, è fondamentale, è sempre più indispensabile anche per gli artisti. Non bastano solamente i contenuti, ma bisogna fare attenzione anche al modo con cui questi vengono proposti e veicolati. A proposito di comunicazione, adesso mi rivolgo direttamente agli artisti che ho alle mie spalle dicendo questo. Le opere non possono rimanere chiuse in uno studio, devono essere messe nel mondo, devono essere messe nel mondo e voi dovete non avere limiti, non dare limiti alla vostra vita artistica. Dovete credere appunto nella vostra arte. L'opening di oggi prevede diversi interventi, per cui io concludo qui, vi ringrazio e appunto spero che facciate il tesoro di questo mio invito che è affettuoso, è sentito ma ve lo dico in modo affettuoso. Grazie mille a tutti e io ripasso la parola a Elena. Grazie, grazie cara Barbara, vi passo la parola al critico d'arte, Siro Perin. Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questa stupenda cornice. Abbiamo qua un luogo che penso tra i più conosciuti a loro, tra i più conosciuti all'interno di passaggio e quindi un luogo che si inserisce così all'interno della prospettiva artistica, culturale, insomma siamo a Veneto, chiaramente a Veneto è sempre a Veneto. ma camminando tra i pali, venendo qua, stavo ripetendo sulla casualità, ma forse non che tanto, di fare lo nostro interno di questa scuola, scuola grande, scuola importante, ma in unità fanno santo particolare il cui nome, in vera greca, significa dono di Dio. Allora, pensando dono di Dio, mi sono presentato sulla parola e venire qua a trovare l'arte, così camminando per strada, potendo osservare e poi barcando questa soglia a trovare l'arte contemporanea di questi grandi maestri, secondo me è un duro. Possiamo vedere veramente di questo bellissimo duro che è l'arte. Un duro che ci permette di evadere dalla frenzia, il lato, diciamo così, il suolo di Venezia, che insomma è calcata da molti piedi, evadere dalla frangia, non solo, ma anche evadere dalla, così, cultura della vita. Quindi se veniamo qua e camminiamo per me, guardiamo verso l'alto e capiamo qualche bella cosa, cosa in senso appunto sostentibile, e finita poi qui camminiamo e questa bella cosa diventa bellissima cosa. Io credo che questo sia uno dei sensi che guidano questo nostro. Regalare belle cose. E non è questo periodo che abbiamo bisogno di parecchi, ma sta tendo nel genere. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, gentilissimo Ciro. Passiamo parola alla critica d'arte, Giorgia Polastri. Due parole solamente perché l'ora diventa tarda. Mi ricollego a quanto detto precedentemente, Scuola Grande di San Teodoro, nata dall'amore dei veneziani per dar da mangiare ai veneziani ambienti. Quindi chi non aveva possibilità, chi sapeva che trovava qualcosa. In questo momento diciamo che non c'è più la necessità di donare il pane da parte di questa scuola famosa, che è ancora funzionante, ma ci permette di donare il pane per l'anima. Quindi l'arte, la bellezza, la gioia. E la Dan Venice Art Gallery, oggi, assieme alla Scuola Grande di San Teodoro, apre le porte alla bellezza da donarla non solamente agli artisti che fra di loro si guardano, ma anche alla città, la città di Venezia, ai suoi turisti e al tutto il mondo. Grazie, grazie, grazie. A noi tutti i partner, che è la Dan Venice Art Gallery e il collaborazione e il partnership, la parola alla Filomena Scuola Ore. Allora, io porto un caloroso benvenuto a tutti i presenti e soprattutto a tutti i nuovi artisti che hanno deciso di proseguire il sogno iniziato a sciarmi in Santa Fosca ancora a metà maggio. Porto un caloroso benvenuto da parte di AVA, l'Associazione Veneziana Albergatori, il Consolato dell'Uruguay, i beni culturali e appunto Sciarmi in Santa Fosca, che grazie all'AVA ha permesso appunto di iniziare la mostra Dreaming of Venice, Sognando Venezia, che è ancora in corso fino al 26 novembre, che vi invitiamo a visitare e che prosegue appunto qui fino al 7 di novembre. Per cui auguro a tutti una buona visione e a tutti gli artisti presenti buona creatività. Grazie, grazie, grazie Filomena. E torniamo all'essenza delle cose. Quanto di bello è sentire una musica classica che si sta adesso sentendo, lo sentite tutti, vero? Sentirsi proprio in un ambiente così elegante e nobile di una musica che ci avvolge e ci fa sognare. Quanto di bello è arricchirsi di un'opera guardando, ammirando e prendendo il colpo di quelle emozioni che riesce a trasmettere. Ci auguriamo oggi che questa mostra bellissima, con tantissimi capolavori unici, ognuno bello per sé, di arricchirsi. E andiamo a scoprirlo insieme, questa bellezza, questo racconto creativo, artistico, attraverso le temi e attraverso le loro opere. Sarei veramente felice, se sarete sempre benvenuti con noi, a seguirci sempre con la Dermine Sargalleri, con voi state la gallerista e art manager Elena Petra Zuliba. Io sono felice di avervi con noi. Andiamo a scoprire insieme questa bella mostra e farsi delle foto, farsi interviste, fotografare con gli artisti e con i maestri di arti che promuovono cultura italiana al mondo. Viva l'arte! Grazie! Grazie! Benvenuti, prego! Grazie! 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 Grazie!